Uno, due, due, tre, merda, merda, merda! Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro, perché non c'era il pavimento. Ma era bella, bella davvero, infiata in matti, numero zero. Ciao! 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 Venite, venite con me, seguitemi, vi farò vedere qualche stanza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.